Buonasera e bentornati in questa nuova edizione straordinaria di Mi Manda. Siamo tornati per l'ennesima volta in Veneto, per darvi conto di uno dei tanti tagli effettuati lo scorso dicembre. Come ogni anno, infatti, la lama del Veneto non ha risparmiato con il consueto cinismo i treni della sera. Il treno regionale 11076, l'ultimo collegamento tra Venezia Santa Lucia e Conegliano, è stato accorciato a Treviso Centrale, l'11076, tagliando fuori l'intera tratta tra la città della Radicchio e l'altro importante centro Veneto. Insomma, sembra proprio che la mentalità sia proprio difficile da sradicare. Tuttavia, noi continuiamo a credere in un'Italia migliore che non taglia e che punta sulle ferrovie, unico mezzo ecosostenibile. Con un servizio presente anche di sera, che non termini ogni anno più presto.